Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi da quanto tempo che non dicevo questa frase, da due mesi, da giugno Scusate per l'assenza sul mio canale E vorrevo ringraziarvi un botto per il raggiungimento dei 300 iscritti Precisamente ora siamo a 304 però vabbè Da quando non facevo video, da giugno L'ultimo video è stato quello su come creare Zidane Su FIFA Appunto da quel video, io in quel video Avevo 50 iscritti 50-60 però non mi ricordo precisamente Però siamo aumentati di 250 iscritti Siamo a 304 iscritti ragazzi Vi abbracerei veramente con tutto il cuore Uno per uno a tutti e 304 Oggi sul canale vi porto come creare Roberto Baggio Iniziamo Allora nome Roberto con nome ovviamente Baggio Nome sulla divisa Baggio Numero di maglia 10 Nazionalità regione Italia Poi passiamo ad anno di nascita Lui è nato in realtà il 18 febbraio appunto però nel 1967 Solo che siccome il massimo è successo di 1970 non posso farci niente Quindi passiamo a fisico Allora è alto 1,74 m e pesa 73 kg Sul profilo tecnico Ruolo centrocampista Posizione e stile offensivo Piede preferito ovviamente destro Poi agli attributi dovete vedere voi Attacco, difesa, abilità, potenza, movimento, mentalità e portiere Dovete vedere voi Potete mettere anche a massimo Avvolto non fate niente Andiamo sul tono e carnazzone Andate sulla prima carnazzone quella più chiara E sciogliete la quinta della terza fila E sta qui Ora andiamo su sopracciglia Sciogliete la prima sopracciglia Colore marrone E andiamo su trasforma La L è qui e la R Vi do sempre un po' di tempo per capiare le caratteristiche Facciamo conferma e poi un minuto Ora ragazzi andiamo su occhi Sciogliamo i secondi occhi della seconda fila Andiamo sul colore Sciogliamo questo colore qui Diciamo un po' verde Un misto fra celeste e verde Sciogliamo questo E andiamo su trasforma La L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo sul naso Sciogliamo il quinto naso della prima figlia Questo colore Ora andiamo su trasforma Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo su bocca Sciogliamo la terza bocca della terza fila Andiamo sul trasforma La L è qui e la R è qui Facilissimo Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo su guancia e mascella Sciogliamo l'ultima guancia e mascella Della seconda fila Andiamo sul trasforma Innanzitutto a pienezza Dobbiamo andare un pochino Proprio un pochino a sinistra Mentre la L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo sul momento Scegliamo il secondo momento della prima fila E andiamo sul trasforma La L è qui e la R è qui Molto molto semplice Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo su orecchie Scegliamo le ultime orecchie della seconda fila E andiamo sul trasforma A dimensioni andiamo a sinistra E lasciamo la L di dimensione ovviamente qui Poi la L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora ragazzi andiamo su capelli Allora potete scegliere Sia questi capelli qui Sia questi qui Poi andiamo su capelli corti E potete scegliere anche questi ragazzi Adesso io vi faccio un esempio Allora il colore O lo mettete nero Di capelli O marrone Oppure grigio Allora ragazzi ad esempio Se voi fate una carriera giocatore Con Baggio appunto Quando è giovane Mettete i capelli marroni Quando sta iniziando ad invecchiare un po' di più Mettete i capelli neri Invece Quando è proprio vecchio Mettete i capelli grigio E adesso li metto i neri Perché mi piacciono O i capelli decideteli voi A me piacciono questi E metto questi Poi la barba O mettete questa qui Oppure questa qui O senza Oppure a fondo Poi ragazzi a divisa Mettetela fuori dentro Come volete voi Maniche Con stile divisa Scarpini accessori Scarpini Altezza calzettone Bandaggio cavalliera Eccetera eccetera La stessa cosa Ad animazione Soltanze Stile palline attiva Stile punizione Stile calcio di rigore E stile corsa Mettete ragazzi Il video di oggi termina qui